E che senso ha avuto presentare questa altra mozione di sfiducia? Devo ammettere che è stato un errore ma è stata un'azione d'impeto che ha portato tutti i consiglieri comunali a presentare questa mozione nella speranza di ottenere magari una sospensiva e poi trattare la mozione di sfiducia perché era un po' quello che negli anni volevano i cittadini. Perché non si può nascondere che il popolo ha chiesto a gran voce di sfiduciare questo sindaco. L'argomento al centro dell'attenzione e anche il motivo per cui le abbiamo chiesto di venire è quello di commentare la notizia del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale. Una notizia che era attesa ma che voi anche oggi in una presa di posizione ufficiale che avete firmato come centrodestra definite celere. Noi dobbiamo accettare con serenità che il Presidente della Regione ha firmato il decreto di scioglimento seguendo una circolare che ovviamente noi non condividiamo. rispettiamo la decisione, non la condividiamo nella misura in cui va a violare quelli che sono il compito libero e democratico di espressione del voto che un consigliere comunale fa. bastava togliere il tesserino e uscire dall'aula per permettere ad una maggioranza che non è più maggioranza di approvare il consuntivo. Di fatto deve essere chi governa ad avere i numeri per poter governare. Tra l'altro questa è una maggioranza fatta di nominati e non di persone elette dal popolo. Lei parla degli assessori in questo caso. Non è superfluo ricordare che avete presentato un ricorso al Tarra. Sì, a questo penserà la giustizia amministrativa chiaramente per chi ha fatto ricorso. Se la Regione avesse utilizzato la stessa celerità per il problema terme, per il problema ospedale, oggi in questa città non ci sarebbero i problemi che ci sono. Ma lei parla di una Regione che è amministrata dalla sua parte politica. Ma io non ho avuto mai problemi quando c'è stato da criticare anche la mia parte politica e l'ho fatto anche in tutte le occasioni. Ecco lì è venuto. Mi risulta che lo fa anche nelle riunioni che avete all'interno. Assolutamente. E viene fuori quella che qualcuno ha definito la sua esuberanza. Di chi non rispetta, diciamo, tra virgolette, le regole del partito. Una volta i partiti erano come una chiesa. Il partito dice di fare così e così si fa. Ma io sono abituato, anche personalmente, prima di scagliarmi contro gli altri, a capire dove ho sbagliato. Non si può pensare che otto persone la pensano tutte alla stessa maniera. Qualcuno dice che il consuntivo perché bocciare il consuntivo se alla fine è soltanto un fatto contabile e non politico? Voi invece ritenete che sia un fatto politico? Il bilancio sarebbe stata la prova del nove. Certo. L'anno scorso il bilancio l'avete fatto approvare perché c'era la questione della stabilizzazione degli LSU. Quest'anno in ogni caso sarebbe successo quello che è successo oggi. Sì, certo. È giusta la norma che prevede che il Consiglio vada a casa se non approva il bilancio di previsione? Beh, è cosa diversa del consuntivo. Il consuntivo è il risultato di amministrazione. Sul consuntivo un consigliere comunale non può intervenire più, mentre sul bilancio di previsione un consigliere comunale può intervenire cambiando il bilancio di previsione, facendolo proprio, con delle proposte e degli emendamenti per portare benefici alla città. Mentre sul consuntivo, praticamente il consuntivo è... Sul bilancio diciamo si può negoziare, mentre sul consuntivo non si può... Si può negoziare e fare delle proposte nell'interesse della città.